andiamo a riscogliare quel ramo lì per chi ti ha risposto andiamo qui senti anche questo Sampi Sampi chi si pone che questo che va passa vai 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 ma vro te am legato il motore ma vah ma sei fuori ma vah ma sei fuori ma vro te mi piace vro te ame vai ma vro te ame vro te ame Grazie a tutti. Andiamo! Ho fatica te, ho fatica te lo leggo. Qua c'è solo il legno lì, scemo che è brutto. Perché ce l'hai lì proprio sul muso. Oh, subito! Uno! Sì, sì, mi butta di lame. Non si rompe. Tira! Tira, Hugo! Tira! 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 A zero! A zero! E' un po' di trovo. Vai, vai, c'è qui lì Che sei davanti a tutti, non va Non lo va Non lo va, non lo va Non lo va, non lo va Non lo va Non lo va Non lo va La prima volta postiamo il posto, la cazzo stai andando a partire, vediamo che è morto, non l'ho tagliato, va, va! Oh, piacere che gli aiutati, lo faccio! Lo faccio per voi! Se tolgo questo cade questo, eh! Se tolgo questo cade questo qua! Perché appena lo tocco cade giù questo qua! Io adesso intanto che passo tiro il legno Andiamo! Non lo facci nello zairo per favore! Non ce la fai già più? Eh no, però non posso! Non farmi ridere! Aspetta! Grazie! A zero! Eh a zero! Sotto però! Il sentiero del cinema questo si chiama, sicuro eh! Vi Anne! Allui o nel file per il произ mówi... Oh Allui Do Grazie a tutti. Siamo! Rompi via quel legnetto lì. Bravo! Rompi via quel legno. Bravo! Sera appena! Da vai! Guarda un po' Sai sempre che in vita tua non hai mai lavorato! Ora che ci passiamo! Ora! Ti passa! In vita tua non hai mai lavorato! Quasi! Ricorda il legnamello fa qualcosa! Firmati! Quanti? 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 Ok... Ok... Grazie per la visione!